Mi piaceva proprio di tutti è questa cosa di usare l'istinto, cioè di tentare di usare l'istinto e di andare a ricercare dentro se stessi questo, non so come chiamarlo, questo arciere, ma insomma questa cosa dentro che appunto ci ha fatto capire che c'è, ecco quello a parte il mirare, imparare, chiaramente la tecnica perché sennò non è che uno può tirare così a caso ovviamente però ecco questa cosa di essere a contatto con la natura, di onorare il bersaglio, la preda come tu la vuoi chiamare, cioè bello, sì, è quello che non sapevo prima di venire ovviamente però ecco sì, da qualche parte intuivi, sì, 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 questo, sì, grazie, molto bello